Dopo molte notti insonni e un travaglio interiore che mi ha spossato, ho deciso di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di aderire a Italia Viva. Maurizio Sguanci non è il primo esponente del PD fiorentino a passare con Matteo Renzi, ma è la prima carica istituzionale a farlo. È infatti il presidente del quartiere 1. E a dimostrazione del fatto che non è proprio un addio come gli altri, la reazione del sindaco Nardella non è come ha sempre fatto con i fuoriusciti dalla nascita di Italia Viva. Non condivido, ma auguro in bocca al lupo e sono certo che continueremo a collaborare, ma più preoccupata. Anzitutto con grandissimo dispiacere perché io conosco bene Maurizio da tanti anni. Abbiamo fatto insieme la campagna elettorale appena un anno fa con l'elezione diretta dei presidenti di quartiere e abbiamo condiviso lo stesso programma e chiesto gli stessi voti con lo stesso simbolo. Detto questo, ognuno è libero di fare le proprie scelte, chiaramente. È presto per fare delle valutazioni politiche, ma non c'è dubbio che il PD al suo interno dovrà aprire una discussione su un atto di questo tipo.